Fedez si apre sinceramente su cosa lo abbia tratto in Chiara Ferragni, e sullo stato attuale del loro rapporto, dichiarando apertamente che il sesso è stato un elemento chiave nella loro relazione. Ammette che, nonostante abbiano affrontato momenti difficili, il legame non ha retto. Tuttavia, sottolinea che Chiara sarà sempre la donna più importante della sua vita, auspicando un clima più sereno per il bene dei loro figli. Quando interrogato sui rumors di presunti tradimenti, Fedez ironizza sulla leggerezza dei media italiani nel trattare l'argomento, sottolineando che non ci sono prove concrete a sostegno di tali voci. Riguardo alla vicenda dei Pandori e il coinvolgimento del caso Balocco, ammette di aver inizialmente reagito male, ma ha cercato di difendere Chiara. Espone il disagio di dover rispondere per errori non commessi, evidenziando le differenze nell'affrontare la situazione tra lui e la sua ex moglie. Fedez riflette su come avrebbe gestito diversamente la situazione, ma sottolinea che non è stato il motivo della loro separazione. Manifesta un senso di frustrazione, per dover attendere che altri gestiscano la questione al posto, suo, e rivela che avrebbe preferito affrontare la situazione in modo più diretto e immediato, se fosse stato al posto di Chiara.